FIFA 19 per Switch Un motivo in più per essere, diciamo, giocato Un bel FIFA NBA 2019 su Nintendo Switch l'ho trovato veramente pazzesco Credo che lo acquisteremo prossimamente perché rispetto a quello di prima è decisamente più bello, più giocabile, la grafica è migliore Poi volendo possiamo giocare dove vogliamo Non solo a casa, anche in giro con gli amici, dappertutto Io Nintendo Switch la trovo spaziale Grazie a tutti